Intendiamo dare gampe ad un progetto di riqualificazione, di messa a valore degli immobili inutilizzati, che in Sardegna sono tanti, all'interno sia delle coste, quindi mi riferisco ai fari, alle stazioni semaforiche essenzialmente, sia all'interno della Sardegna, caselli stradali, case cantoniere, immobili inutilizzati. Esistono strumenti finanziari, strumenti giuridici che consentono attraverso la concessione a lungo termine o attraverso lo strumento della concessione gratuita per giovani imprenditori di valorizzare questi immobili. Partiamo quindi da una condizione attuale di degrado e di inutilizzo di questi immobili ed una futura opportunità per tanti giovani di valorizzazione al fine di creare opportunità di lavoro e di reddito. Quindi un'occasione storica e importante con strumenti finanziari e normativi finalizzati a un obiettivo ben individuato e ben specifico. I comuni saranno chiamati a individuare le migliori modalità di utilizzo allo scopo di integrare queste strutture nelle politiche di promozione territoriale. Questo vale per i percorsi e i cammini religiosi, per le ciclovie, per tutte quelle modalità di fruizione, di turismo lento che vede coinvolte naturalmente soprattutto le realtà territoriali dell'interno. Ma è molto importante che al di là del coinvolgimento di ogni singolo comune sia chiara la dimensione di sistema dei progetti che intendiamo promuovere e realizzare. Deve crescere la Sardegna attraverso lo sviluppo di singole opportunità dei singoli territori che vanno però messe in rete. È un accordo tecnico tra la regione Sardegna e l'Agenzia del De Magno che ha anche un risvolto politico perché costituiamo una squadra per valorizzare il patrimonio pubblico, patrimonio pubblico della regione e dello Stato. Fari, faricostieri, torri che sono un nucleo importante di un progetto che abbiamo già sperimentato nel resto del continente che porterà imprenditori a investire in queste strutture per farle rivivere, per farle diventare strutture turistico-ricettive in particolare con progetti di qualità che dovranno ovviamente rispettare i vincoli ambientali e paesaggistici. Nel rispetto anche di quelle che sono le intenzioni dei territori in modo tale che possano creare posti di lavoro e indotto per il territorio. E poi c'è il tema dei cammini e percorsi, cioè immobili che si trovano lungo i cammini storici e religiosi oppure le ciclovie. In particolare qui esiste la ciclovia del sole, ma ce ne sono tante altre. Beni che da soli non avrebbero interesse, ma incardinati in queste vie, in queste ciclovie e in questi cammini storici acquistano un valore in quanto saranno trasformate in servizi di accoglienza e assistenza per camminatori amanti della bicicletta, cioè amanti di quel turismo lento che è in grande espansione in tutto il paese. Quindi Regione, Stato, insieme per valorizzare i mobili pubblici a servizio della comunità. Beh, hanno prodotto un risultato straordinario. I primi 24 che abbiamo già giudicato a imprenditori di vario tipo, anche internazionali, hanno prodotto 17 milioni di investimento, quindi 60 milioni di impatto complessivo e 300 nuovi posti di lavoro. Tenete presente che questi 24 fari, fino a ieri, rappresentavano un costo per lo Stato di qualche milione di euro all'anno solo per la messa in sicurezza. Quindi da un costo per lo Stato siamo passati a un ricavo a investimenti a posti di lavoro. Grazie. Grazie.